La mattina di sabato ci siamo svegliati intorno alle 5, mio marito andava al lavoro, è uscito di casa e ha trovato praticamente tutta la facciata della casa, compreso la porta, il portone d'ingresso e le persiane completamente schizzate di un liquido fatto di acqua ragia, mista, vernice, una sostanza acida. Un dispetto, una ragazzata o qualcosa di più, non lo sanno ancora ma questa famiglia di Pratantico, una frazione del comune di Arezzo, si è ritrovata a bersaglio di un gesto davvero incomprensibile. Il motivo non lo sappiamo e sinceramente la cosa ci ha lasciato veramente senza parole, abbiamo fatto denuncia a Carabinieri. La paura a Pratantico corre lungo la regionale che attraversa il paese, questo non è l'unico episodio, che ha sconvolto la tranquillità delle famiglie. Macchine strane, persone appostate sotto casa, sotto alcune abitazioni, poi abbiamo avuto anche un tentato furto, sempre due settimane fa che ci hanno scassinato il cancellino di Pedonale e per fortuna ha sventato da un nostro vicino che avendo visto persone sospette a girarsi intorno casa, avendo le chiavi di casa è entrato, ha fatto un giro dell'abitazione e fortunatamente ha messo in fuga. Molti i colpi tentati che hanno come bersaglio persone anziane. Alla fermata dell'autobus è stato sventato lo scippo ad una 85enne mentre un'altra anziana ha subito una tentata truffa del finto incidente. Hanno telefonato a mia suocera dicendo che mio figlio aveva avuto un incidente con degli stranieri e che era stato portato in questura perché praticamente c'era stata una discussione tra di loro che la macchina non era norma e quindi per poterlo rilasciare doveva pagare 6.000 euro addirittura. I cittadini si stanno organizzando con scambi di telefonate e maggiore attenzione tra vicini ma non basta. Vorrebbero che fossero installate delle telecamere e per questo firmeranno una petizione indirizzata al sindaco e al prefetto. Faremo anche una petizione, una raccolta firme per installazione di telecamere all'interno del paese perché per adesso l'unica telecamera funzionante è quella che è in collegamento tra Salleo e Prato Antico. Volevamo un po' smuovere l'opinione pubblica proprio sul discorso sicurezza delle frazioni perché qui ci sentiamo un attimino veramente abbandonati.